Possiamo dire, Filippo, gol pesanti, gol importanti, oggi è direttore 2, la Lazio vince? No, contento, contento perché abbiamo vinto, è quello lo più importante. Dopo sia il mio momento non lo so, però sono in forma, sono contento perché sto andando bene, sto facendo gol, quindi devo seguire così. Quando Caisedo sblocca la partita la Lazio vince sempre, sei diventato anche un portafortuno, un talismano. Sono tante le partite che sono andate bene dopo il tuo gol del vantaggio. Certo, però a volte succede come Caisedo, purtroppo abbiamo fatto una figura buona, quindi oggi è stato con la fortuna che ha fatto il primo gol, abbiamo vinto, sono contento. Adesso noi dobbiamo mollare, penso che tutto si riapre ancora e dobbiamo lottare fino alla fine. Senti, questo gruppo è un gruppo sato, è un gruppo che ci sta a credere, è un po' pazzo, perché perde col Chievo, riesce a vincere più contro la Sampo. Che Lazio è questa? La Lazio vi ci crede tanto, prendimi un po' il polso di questa pazza, spiegami. Non lo sai dire, è veramente un po' strano, perché oggi abbiamo fatto una partita alla grande contro il Milan, abbiamo fatto una partita alla squadra, tutti insieme, tutti uniti, poi succede. Per fare il calcio è così, noi dobbiamo continuare, noi dobbiamo mollare, sappiamo che quando molliamo un attimo tutte le squadre sono forti, quindi penso che oggi è una bella risposta, deve servire per essere come oggi e contro l'Atalanta serve una partita più intensa. Ieri il mister ha detto che sono sei finali da qui alla fine, compresa quella di Coppa Italia, è davvero così? Quindi avete l'obiettivo sia la Champions che la Coppa Italia? No, l'obiettivo è vincere tutta la partita, poi se andiamo in Champions, se andiamo in Europa, non lo so, purtroppo domenica c'è l'Atalanta con una squadra che sta, come noi, luttando per stare in Europa, quindi tutta la partita la dobbiamo vincere, siamo la Lazio, siamo una squadra che non molla mai, quindi è così, dobbiamo essere pronti per il partito domenica. Grazie.